Assimilato l'esito delle urne si registrano gli interventi anche dei candidati che a scrutinio concluso hanno dovuto riconoscere la vittoria degli antagonisti. A Montesano e a Padula i candidati usciti sconfitti dalle urne hanno commentato l'esito delle elezioni ringraziando quanti li hanno sostenuti ed annunciando anche la linea che intenderanno seguire nel loro ruolo di opposizione. A Padula dove i cittadini hanno dato la loro fiducia piena visto il numero di voti di distacco dalla lista contendente a Michela Cimino e al suo gruppo di Padula vota chi ti ascolta Dario Mario Tepedino candidato sindaco della lista Padula visione comune ha commentato l'esito del voto attraverso il suo profilo social. Voglio ringraziare scrive i tantissimi amici che ci hanno onorato del loro voto. Un grazie in particolare va ai miei compagni di lista che hanno partecipato con lealtà e amore per la nostra città a questa competizione elettorale. La mia famiglia infine che mi ha supportato e sopportato in questo periodo. Infine, continua Tepedino, un augurio di buon lavoro appare doveroso rivolgerlo alla sindaca e alla sua amministrazione che sono certo si impegnerà per il benessere di tutti. Troverà sicuramente in noi una spalla allorquando si dovranno adottare decisioni nell'interesse di tutta la comunità. Anche da Montesano arriva il commento della lista Uniti per Montesano che è uscita sconfitta dalle elezioni dello scorso 3 e 4 ottobre dove ha prevalso la lista Nuova Montesano del sindaco uscente Giuseppe Dinaldi. Nel commento la candidata sindaca Rosa Campiglia a nome della sua squadra ed in particolare degli eletti del gruppo Michelina De Paola, Francesco Radesca e Tina Pepe assicura l'impegno per il bene della comunità seppur dall'opposizione. Abbiamo intenzione, dichiara Campiglia, di creare un gruppo di lavoro che coinvolgerà tutti i 12 candidati della lista Uniti per Montesano perché tutti vogliamo continuare ad impegnarci per il nostro paese. Cercheremo di portare avanti alcuni punti del nostro programma assicura iniziando fin da subito a costruire solide basi per un cambiamento che possa portare alla rinascita di Montesano. Un passaggio poi inevitabile per ringraziare quanti hanno sostenuto il gruppo di Uniti per Montesano per la vicinanza dimostrata in questa campagna elettorale. È stato un periodo pieno di emozioni, ha ricordato in conclusione Rosa Campiglia, ed è stato entusiasmante stare tra la gente, raccogliere le opinioni delle persone, prestare ascolto a tutti e agli ultimi. Questo è ciò che continueremo a fare già da oggi. Noi ci siamo per tutti e continueremo ad esserci.